È un derby, sei cresciuto nella Juve? Sì, ne ho fatti tanti, a livelli di quando avevo 13 anni ne ho fatti abbastanza, però sì, la vedo come un derby, ma soprattutto la vedo come un big match, perché dobbiamo pensare che già dopo il passo falso contro la Sampdoria dobbiamo pensare di giocare contro il Torino contro una grande squadra, contro una big, e quindi dobbiamo fare una finale come la dobbiamo preparare alla grande come l'anno scorso con la Serenitana. Perché c'è il rischio che quelle davanti cominci un po' a scappare? Sì, sì, però sappiamo che il campionato è lungo, all'andata eravamo metà classifica in questo periodo e poi c'è stata la volata, soltanto che ora siamo là e non dobbiamo staccarci minimamente, questo è vero. Quest'anno contro le cosiddette grandi non sta andando benissimo, però è vero che anche l'anno passato in realtà gli scontri diretti nella stagione regolare non erano andati particolarmente bene. Sì, ma come vedi anche la Juve in Serie A, gli scontri diretti li ha vinti o li ha pareggiati, tanto che le partite più importanti si fanno con le piccole, se vuoi vincere un campionato si fanno con le piccole. Io dico piccole perché alla fine siamo là sopra e quindi è giusto pensare come una grande. Preoccupato dal potenziale offensivo del Torino? Ma preoccupato no, preoccupato allora dobbiamo essere sempre preoccupati perché ogni squadra ha degli attaccanti abbastanza forti per la Serie B e quindi si sa che il Torino è attrezzata per andare in Serie A, quindi chiunque gioca fa bene e chiunque gioca devi stare sempre attento. Però ci dobbiamo preoccupare più di noi stessi, dobbiamo cancellare la partita di Genova e ricominciare con un altro spirito. Il terzo corso generale di Mimo Maglietta? Speriamo, speriamo, guarda come ex, come hai detto tu, come ex Juventino e speriamo di farlo, ma non importa, a me basta più che altro non prendere gol e poi davanti abbiamo dei giocatori che possono farci la differenza. Poi il terzo gol speriamo che viene, se viene il terzo vuol dire che arriva anche il quarto perché davvero che mi sono sbloccato una volta è arrivato dopo il secondo, quindi speriamo bene.